ciao a tutti sono francesco del gaudio e sono di castellammare di stabia in provincia di napoli ho 34 anni sono una persona molto socievole mi piace stare con le persone mi piace molto il confronto amo tantissimo viaggiare conoscere nuovi posti credo molto nella crescita personale infatti mi piace migliorarmi sono una persona molto determinata e quindi mi piace continuamente avere nuovi stimoli e pormi dei nuovi obiettivi la mia passione più grande la recitazione amo tantissimo recitare amo il fatto di mettersi nei panni di un'altra persona e raccontare una storia che non è la nostra vi mostro i miei profili vi saluto grazie e arrivederci